È una grutta con un braccio di 1,65 m di braccio, portata 1.400 kg in punta, 4.000 di portata massima, è alta 36 m, ha un carro 6x6, una piattaforma. Dove è stata costruita? La Femme Grutta è stata costruita a Montenure, quindi la Femme Grutta italiana che nasce nel 1963 e in questi anni ha costruito i gruppi. Quindi tipicamente piacentina, insomma? Tipicamente piacentina, che tra l'altro ultimamente abbiamo anche montato 6 gruppi per la ricostruzione dell'ex Porte Morandi a Genova e abbiamo dato la nostra piacentilità e italianità al contributo per il nuovo monte. La piattaforma in cemento armato su cui appoggia quanto è grande? La piattaforma deve essere 7 metri per 6 metri, serve per dare la stabilità. la gru, la dimensione di questa persona è calcolata per poter sopportare le relazioni delle gru e quindi si può far sì che la gru abbia la sua attività e la sua attività. Quanto ci vuole per montarla? Avete iniziato questa mattina? Avete iniziato questa mattina e penso che ha circa perso il 18-18 metri per montare la gru e se ci vuole l'ausilio di un autogru per sceglie mare. Anche in questo caso un autogru piacentina? L'autogru sì, è un autogru di una dita piacentina che è la casella autogru.